Paulina Poriscova è una donna di magnifica bellezza, eppure ha un'età non troppo giovane, infatti ha ben 58 anni, e pensate che apparsa su Instagram senza vestiti addosso, con la speranza che tutti capiscano che una persona di 58 anni di età si può tranquillamente accettare per come è. I capelli sono bianchi, eppure a 58 anni ha un fisico veramente straordinario, ha deciso di posare a questa età così elevata, facendo capire o meglio mandando il monito di accettarsi pubblicamente, tranquillamente, con il tempo che inevitabilmente passa, trascorre, ma nonostante questo la donna è fiera, di chi è a livello estetico, del corpo che possiede, che effettivamente parlando è tonico, è un fisico giusto, piacevole, non è un fisico, diciamo così, flaccido, nonostante 58 anni. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi al canale, mi raccomando, non ha la nuova video di un commentaggio.